In questa mattina è uscita finalmente la grado di ferro regionale sul bando relativo alla sicurezza stradale, c'è anche il comune di San Giovanni Valdano, ci sono stati assegnati 75 mila euro che saranno utilizzati appunto per la messa in sicurezza delle strade appunto del nostro territorio comunale. E' un'offizia insieme all'accordo raggiunto con l'associazione di categoria che ci riempie veramente di ciò. Se già quali interventi saranno finanziati con questi soldi? Ci sono già dei progetti a cui hanno lavorato nei mesi naturalmente scorsi d'uffici tecnici, che riguarderanno essenzialmente il trappo della statale lungo l'armo, ma proprio sui dettagli poi magari vi riempiamo a conferenza stampa delle settimane successive.